La Udicon, Unione per la difesa dei consumatori a livello nazionale, ha pubblicato due bandi concorso riservato alle scuole. Alle scuole superiori, per quanto riguarda la sicurezza stradale, ci sarà la sesta edizione nazionale a Roma nei prossimi giorni e quindi sto inviando a tutti gli istituti superiori il bando e la circolare apposita che prevede un concorso che verrà valutato da una commissione di esperti e dato la grande partecipazione degli anni passati gradirei quest'anno che la provincia di Teramo fosse presente con propri gruppi qualificati. Altro gruppo qualificato invece deve essere quello delle scuole medie inferiori, quindi tutte le scuole medie sono state da noi avvertite che c'è un concorso sul fenomeno del bullismo e quindi anche qui c'è da realizzare un'opera a cura delle scuole che vorranno partecipare e presentarli alla nostra sede di riperimento per inviarla alla sede centrale nei termini e nei tempi previsti dal bando che tutti i dirigenti scolastici nella giornata di oggi andranno a ricevere. Concludo informando i ragazzi e le scuole, i dirigenti, che in ambedue i bandi sul bullismo e sulla sicurezza stradale dovranno essere realizzati dei fumetti appositi che verranno messi a concorso e quindi il vincitore o il gruppo che vince porterà a casa un discreto premio economico che potrà essere utilizzato per l'acquisto di materiale didattico. Quindi è interessante anche sotto questo aspetto, ma ribadisco, visto che i due temi sono di grande attualità sono certo che la provincia di Teramo non farà mancare il suo apporto e la sua partecipazione.